La libreria Bucher di Gatomare è pronta all'appuntamento fisso del sabato, del weekend, con la classifica dei 10 libri più venduti della settimana. Partiamo subito al decimo posto, una nuova entrata, Prendila con filosofia, manuale di fioritura personale, di Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Al nonno posto, Primo Levi, se questo è un uomo. All'ottavo posto, Walter Veltroni, Tana, libera tutti. Al settimo posto, l'ottobiografia di Pedra Delicato, Alicia Rimet Barlett. Al sesto posto, Finché il caffè è caldo, di Toshikazu Kavakuchi. Al quinto posto, Benedetta Rossi, insieme in cucina. Al quarto posto, Giulia Quinn, il Duca e io. Al terzo posto, Cambiare l'acqua e i fiori, di Valerín Perín. Al secondo posto, vi metto un punto interrogativo. Il libro è terminato, come libreria, so che è in ristampa e sta arrivando a breve, i primi giorni della prossima settimana. Si tratta del libro appena uscito, di Sallusti, di Alessandro Sallusti. Il sistema, potere, politica, affari, storia della magistratura italiana. Scusatemi per questo punto interrogativo. E al primo posto, Giannico Carofiglio, la disciplina di Penelope. Grazie a tutti, ci vediamo il prossimo sabato con una bella classifica sempre aggiornata. Ciao, a presto! Grazie a tutti.